I viaggi di Oli, Daniela Crisopulli, 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 ale, ale. Il piacere c'è proprio perché le condizioni in cui si è scese sono totalmente diverse. E non c'è dubbio perché poi il sole e la pista si è nettamente velocizzati. Non avere il vento conto in una pista che muove così tanto, ma anche morfologicamente, ti aiuta. Detto ciò sono molto contento della mia performance. Comunque sotto alla travessa con il portiere del barma Cicci Zola. Cicci Zola! Cicci. Cicci. Emanuele Codignoni! Allora Ricco, c'è Silvia Giglioli in via Berneri al Cirico 2-1. Quindi aspettiamo Mati, Emma, Lisa, invito anche Davide Bianchini. Io vado, faccio un salto a Modena Parma, poi vado a fare la mia live show, il vanizzagnoli.it show. Direttamente dal volley, semifinali e finali, a Casaricchio di Reno, Unipol Arena. Mi sento oggi, Emanuela Collazzo! Giornale Radio Rai, Radio Rai. Emanuela Collazzo, Ivan, 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 Zaitsev! Giacomo Priorischi, invece, era soltanto un breve buco di linea. Andiamo a Venezia Ternana, da Dario Giorgio. Ventesimo allo stadio Pensa. Venezia 0-0, Ternana 0. Appena annullato un gol al Venezia per fuorigioco. Facciamo fatica a raccontare l'infilazione del giocatore con il volto, perché la nebbia comincia ad avanzare. Facciamo fatica a vedere, soprattutto, quello che succede nella fascia opposta. Noi, buon favorizzo a Roberto Tegoni, qui inquadrato, vanizzagnoli.it, sull'autolive show, dato, ho i boxer e basta. Adesso, devo controllare una cosa, perché ho fatto la doccia pubblica. Spero che non si veda qualcosa, perché se no, per un attimo, un frame, magari, se no, Andrea Ruggetti, Gabriele Maio, presentano, presenterebbero un altro, esposto, per far fermare il molesto vanizzagnoli.it. Andrea Ruggetti, Gabriele Maio, 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 Ruggetti, Rugo, Rugo. Sì, perché come abbiamo sottolineato anche nell'intervista con... Emilio Mancuso. ...in fase di presentazione, ci sono state due gare nella gara. Prima, quella dove soffiere in testa, e poi la seconda gara, dopo un'interruzione di oltre mezz'ora, con la Polinkel e l'americana che sono venute fuori, perché il vento è calato, perché il sole era più caldo, la pista era più veloce. Questa è la verità. Comunque, per Sofia Goggia, podio numero 54 in Coppa del Mondo, due podi consecutivi, due terzi posti sulla sua pista preferita, perché ha vinto tre volte, naturalmente ci si aspettava... Olimpia delle topane... ...delle topane... ...comunque, non ce lo dimentichiamo, c'è sempre un supergigante. In Casa Italia, buon nono posto per Marta Bastino, a soli 80 centesimi dalla vincitrice, così come, tutto sommato, sono buoni, il dodicesimo posto di Federica Brignone a 1,04, e il quattordicesimo di Laura Pirovano a 1,21. Questo è il quadro per quanto riguarda Cortina. Coppa del Mondo a Maschile, in Casa Italia, per una volta, dobbiamo dire, Nico, migliore rispetto alle magnifiche ragazze. Dunque, i ragazzi stavolta hanno fatto meglio, perché il secondo posto di Guglielmo Bosca, oggi a Cardi, Cingera, è stato davvero importante, tra l'altro, il primo podio per lui di una travagliatissima cadiera, una montagna di infortuni per il trentenne dell'esercito, che per un attimo ha assaporato il gusto della vittoria, prima di essere superato, per soli 18 esimi dalla francese Allegra. Resta un magnifico secondo posto che lo rimaga, che rimaga il milanese, trapiantato in Valle d'Aosta, come detto, dai grandi infortuni che ha avuto, anche dalle grandi fatiche fatte negli ultimi anni per tornare ad essere competitivo. Ricordiamolo, il quinto posto a Wengen, secondo a Cardi, su Germania. E' dunque davvero l'inizio di 2024 molto positivo per Guglielmo Bosca. Il terzo posto all'elvettico Loic Meillard, staccato di 25 centesimi dal vincitore, non ci sono sul podio e questa è una sorpresa, soprattutto Marco Oderbach, che fuori dal cuore, e non c'è sul podio, colui che sta dominando la stagione della velocità, ovvero il francese Esanazena. Il secondo degli azzurri in classifica è Dominic Maris, che ottiene l'ottavo posto a soli 54 centesimi dalla vincitore. Dicevamo della supergigante domani a Cortina, con Federica Brignone che cercherà di salire sul podio, cercherà di tornare ad essere competitiva per il podio, dopo una due giorni non sfortunata per lei, anche con la caduta di ieri, che con fortuna non ha avuto conseguenze peggiori, soltanto tanta paura e una volta perdente, e domani ci sarà anche un altro supergigante maschile, a Gavis in Germania, da Cortina Liglia allo Stuttio. Bene, grazie, Nicomacuso, e dunque ci sentiremo con te domani, torniamo sui campi di Serie B, partendo da Modena e Parma, da Miano Fortuna. Molto bene. Allora fino a aspettato è arrivato il raddoppio da parte del Modena, quando siamo arrivati al 24esimo il Parma si è fatto trovare impreparato, dietro è arrivato Zaro addirittura a presentarsi a tu per tu con il portiere Cicizola, un dribbling e poi la rete del 2 a 0, Modena dunque con il doppio vantaggio, 2 a 0 sulla Parma, capolista quando siamo arrivati al 24esimo del primo tempo, a te. Como Ascoli, Manuel Codignoni anche per te. Manuel Codignoni, Codignoni, eh. Comoda notizia del vantaggio doppio della Modena sul Parma, allora si moltiplicano l'energia per la squadra di casa che sta decisamente prendendo in mano le reddini della situazione, ma è risultato ancora sullo 0 a 0 tra Como e Ascoli con la squadra di Ocean Roberts e Cesc Fabregas che cerca di schiacciare all'interno dell'interno del campo. Alle Fonta, alle Fonta. Noi siamo diretti prima a Modena Parma nel parcheggio e poi ci sposiamo al volley a Casa Lecchio di Reno per il nostro live show, quello di cui si vergogna profondamente il direttore Silvia Giglioli, ma anche si vergogna lo stesso Alessandro Fontanesi che non è convinto di accostare la propria immagine di vincente, perché Alessandro Fontanesi è un vincente nella vita, nell'amore, a scuola, negli studi, è un gigante. Quindi l'affiancare, il mattatore vannizzagnoli.it potrebbe, anziché rivelarsi il valore aggiunto in un percorso, diventare un boomerang, un boomerang. Allora io non associavo nulla a nessuno. Io, curiosa, cioè fare il pagliazzo, l'ho imparato ad esempio da «Son felice, felice, felice i miei bambini!» Nel Little Tower, che diceva nel suo show, «Una marea di fesserie». «Venticinquesimo minuto, Cremonese 0, Crescia 0, stupro». «Venezia, Ternano, nella Nibbia, c'è Dario Giordo, ancora nella Nibbia». «Attenzione Nico, da Modena, sul dato per la rettifica, sul nome del marcatore è stato abiuso a segnare il 2 a 0 della Modena, Modena 2, Parma 0, 26esimo. Venezia allora». «Venezia, Dario Giordo e la Nibbia, taglio». «Eccoci, 26 minuti, 40 secondi di gioco, 0 a 0 il punteggio fra Venezia e Ternana. Venezia pericoso, tre minuti fa, una conclusione di busio da ottima posizione. All'interno dell'area di rivoli, il freddo che ha ribattuto dalla difesa della Ternana. No, ti verrà avviso. «All'interno della propria metacampo, 27 minuti scoccati in questo momento, lo stadio Penso, Venezia 0, Ternana 0, studio». «Dario, mi interessa anche la situazione climatica, la nebbia...» «Minute punteggio da gaffa, eh?» «Abbostanza ridotte, diciamo, la fascia del terreno di gioco vicina alla tebola stampa è comunque presente, comunque buone condizioni di visibilità, un po' più difficile distinguere i giocatori, soprattutto quelli della Ternana, i numeri di maglia, numeri scuri, su sfondo bianco, si fa un po' meno fatica con i giocatori del Venezia». «L'importante è che in campo riescano a vedere i giocatori, ventisettesimo minuto, zero ancora tra Suttirola e Cosenza, così come nella Liga Spagnola, 0-0, 17esimo tra Real, e ragazzi... «Rai, vai a cano, andiamo a Londo Verde». «Rai, radio 1, la tua finestra sul mondo». «Vai a cano...» «Cucina numero 6, il taglio a Giulia. Affettate le verdure in strisce verticali della lunghezza precisa di 81 mm. Misuratele con cuore, se sono tutte uguali, fate un applauso al vostro coltello Berke della collezione Serunga. Lui sì che sa affinare». «Mi dai 50?» «Mi dai 50?» «Ma... ma... mi porti iscritti al mio canale YouTube? Ma... mi commenti col nome d'arte? Cioè... «Lorena Gavris...» «Grazie...» «Ehm... sto andando...» «Oggi è venuta la mia moglie...» «Sono stato con la mia moglie a fare...» «ha fatto le pulizie...» «Siamo stati in via Berneri...» «E ho detto in una diretta che vorrei che...» «facesse una prova di prostituzione sul ponte...» «Sul ponte della Modena...» «Chiedendo 500 euro...» «Il problema è che...» «Ci può arrivare una persona che li mette...» «Li dà...» «E dopo...» «Anche se ci sono io vicino...» «Come facciamo?» «Poi è una persona che non è abituata...» «Che...» «Ama...» «Che ha paura degli estranei...» «O comunque diffidente degli estranei...» «Sarebbe un supplizio...» «Uno...» «Io oggi vado a cantare con i tifosi di Perugia...» «Quindi canterò...» «Un Capitan...» «No, no...» «Leon...» 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 «Canterò...» «Mattei Kasinski...» «Canterò...» «Arrivo...» «E con i cordi...» «All'improvviso...» «Max Colaci...» «Ce l'abbiamo noi...» «Ce l'abbiamo noi...» «Max Colaci...» «Ce l'abbiamo noi...» «Chiederò oggi di...» «Suonerò anche il tamburo...» «E anche il megafono...» «Chieserò il prestito al megafono...» «Per urlare...» «Leon...» «Alla pallavolo...» «Prima vado al calcio...» «Ooo...» «Solo Modena...» «Solo Modena...» «Solo Modena...» «Solo Modena...» «Solo Modena...» «Solo Modena...» «Quando i cei si alzeranno le bandiere...» «Pom, pom, pom...» «I tamburi...» «A suonar...» «Dicevo con...» «In diretta...» «Che mia moglie...» «Che assisteva oggi...» «Ascoltava e parlava anche...» «Senza inquadratura naturalmente...» «Neanche per cento euro...» «Verebbe...» «Verebbe a cantare...» «Perché mia moglie non ama...» «Lo strepitare...» «È come coniglietta panciottina...» «Ama il silenzio...» «Quindi...» «Quindi...» «Devo cercare...» «Una persona che venga con me a cantare...» «Allora...» «Quando andavo in curva...» «Non avevo...» «Lì i miei...» «Non avevano venduto il terreno...» «Eravano molti debiti...» «Avevano molti debiti...» «E...» «Mi dico sempre...» «Mia mamma mi suggeriva di...» «Usare...» «Di economizzare la cartigenica...» «Ok?» «E...» «Perché ho detto questo...» «Quindi...» «Andavo in curva...» «Quindi...» «C'era uno...» «Afono...» «Poi di professione ubriaco...» «Un grande imprenditore ubriaco...» «Uno di professione...» «Che diceva...» «Si avvicinava anche a me...» «Diceva...» «Afono diceva...» «Dai cantate...» «Dai cantate...» «Regiona...» «Io tengo le altre...» «Sassuolo...» «La la la la...» «Ce l'abbiamo noi...» «La la la la...» «Io sono molto amico...» «Con Gheorghi e Cretu...» «Gli ho fatto parlare di Bassano...» «E' l'allenatore campione del mondo...» «D'Europa...» «Con lo Zax...» «Squada polacca...» «Le polacche sono bellissime...» «E allora...» «Mi diceva...» «Mi diceva questo allenatore...» «Vedi...» «Mi viene la pelle d'oca...» «A parlare di Bassano...» «In provincia di Vicenza...» «Un grande allenatore...» «Poi ho intervistato...» «In vita mia...» «Contra...» «Cosmin...» «Contra...» «Aji Junior...» «Ecco...» «La la la la...» «Ce l'abbiamo noi...» «Lorena...» «Propongo...» «Adesso...» «Devo...» «Compro...» «Una targa...» «E darò un premio a...» «Loredana Gabris...» «In arte...» «Lorena...» «Ha cambiato la storia...» «Dipieve Modolena...» «Dipieve Modolena...» «La più amata dai reggiani...» «Datto...» «Argovizze...» «Loredana...» «Gavris...» 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 «Così cantano gli speaker...» «Tutto fermo ancora una volta per un lancio di fumogeni da parte della curva della Cremonese...» «Ne arriva adesso un altro in campo...» «Si lamenta tantissimo...» «Andre Nacci...» «Vetremo ora che decisioni prenderà l'arbitro Santoro...» «Davvero un continuo...» «Ne sono arrivati almeno cinque...» «Finora gli fumogeni che stanno rallentando di molto il gioco...» «Trentaduesimo minuto...» «Ci aspettiamo un lunghissimo recupero in questo primo tempo...» «Cremonese 1...» «Brescia 0...» «Segnata al trentesimo...» «Abrego studio» «Comportamento incomprensibile dagli stalti...» «Venezia...» «Ternana...» «Dario Giorgo» «Tri minuti e mezzo...» «Allo stadio Prezzo...» «Venezia 0...» «Ternana 0...» «Poi difficoltà in Venezia...» «Quando si tratta di impostare la manovra...» «Sta salendo il messing della Ternana...» «Dunque partenza dal basso...» «Ma difficoltà anche a passare la metacarpia...» «In questa fase da parte della formazione di casa...» «Condizioni climatiche sostanzialmente invariate...» «C'è sempre la nebbia...» «Ma non mi sembra che ci siano problemi...» «Per il 22 protagonisti...» «In campo...» «Beh, insomma...» «Così l'inquadratura va bene...» «Io ho tolto la...» «Ho tolto la maglia...» «Perché nell'abitacolo fa caldo...» «C'è un po' di sole...» «Zero 0...» «Si sta giocando il trentatrisimo minuto...» «Stesso minuto...» «Lì, viero!» «Ma sono mespo...» «No me non ha mai preso una chiamata...» «Mi ricordo che...» «Domani è attiva...» «La campagna di rapporto a fondi...» «Promossa dall'Associazione...» «Meris Mielso...» «Finalizzata a sostenere...» «Il progetto Zaino della Speranza...» «Che garantisce...» «Un pasto scolastico...» «Il diritto alla salute...» «All'educazione scolastica...» «I bambini più...» «Bisognosi in Italia...» «Tresso le scuole...» «Gestite dall'Associazione...» «In Malawi...» «Dunque fino a domani...» «Si possono donare...» «…» «…2 euro...». «ggio...» «… 2 euro...ikanio...» «…4 5 5 9 6...», «…5...» «…» «… than 6...» «…» «…» «…» «…» Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Volevo salutare la mia leggenda vivente qui in diretta su YouTube dall'abitacolo di vannizzagnoli.it. Devo modulare bene l'inquadratura perché altrimenti gli amici e colleghi Andrea Rugretti e Gabriele Maio sono lì pronti. E' un'altra cosa che mi mando la mail di nuovo al collegio di disciplina dell'ordine dei giornalisti, ovvero al presidente della mia Romagna che si chiama Silvestro Ramunno per sbugiardarmi. Per tutto quanto non è decoroso per un giornalista professionista, pensi caro Marco a Giuseppe Cruciani. Complimenti per il suo taglio di capelli e ho tanta voglia di ricevere i suoi contributi video su tutti gli studi di Estenews, quelli soprattutto al passato, quindi la galleria e il kaleidoscopio di emozioni. E poi privatamente attendo i numeri di Carta Canta Villandorma, poi il ragazzo che fa le pagelle, tutta questa genealogia, dice Luca Bello, personaggio di Sette Gol che è passato anche a Tele Lombardia, il purpuri, non il putpuri, dice in televisione. E si lamenta perché dice che non è carino che glielo faccia notare fuori onda. Il purpuri, poi Trigonia, parlava di Scamacca, Trigonia e poi dice Sebastiano Contrario. Io direi un gigante, ma il problema è che non è che fa ironia o statira, non si rende conto, dice vabbè ma chi se ne frega io sono un presentatore. Luca Bello, allora lui ama i giochi di parola, allora dice dai mettila nell'uscio, ovvero mettila in porta, la messa nell'uscio, tutto così. Luca Bello, dove siamo diretti? Marco Este dove siamo diretti? Sì verrebbe, sono diretto all'esterno del derby Modena-Parma, ieri tu e tu e tu con il gioco... Tu stavi parlando, è stato un collegamento, stai diretti a Modena... Sì, nell'antistadio, nel parcheggio, nel parcheggio, ieri ho fatto due belle domande a Paolo Bianco. Il giorno prima 5 a Onora a te, Alessandro Nesta, no, Onora a te, Sandro Nesta, Onora a te... Non so se lo cantassero, ma io lo canto durante la settimana a incitare lo Stavranata, con il mio coro preferito. In Italia, Regia, e ho tanta voglia di venire a cantare. Qual è il coro simbolo che mi hanno intonato i tifosi Brianzoli, ma non me lo ricordo? Qual è proprio il coro che fa perdere la testa a Ieste, a Este News? Non c'è? Negli mesi e anni che è diventato virale quello della Champions League, cioè che sognavamo una squadra che ci portasse in Serie A, ora che è arrivata in Serie A. Sogniamo la Champions League, se non dovesse arrivare la Champions League e ci ne tornava a Paolo. Questo è diventato poi il coro simbolo dei primi anni di Isi Monzesi. E' il primo nella partita con il Sassuolo, molto importante del Cato per il Tanto, che stanno trattando un po' un momento. E quindi domani il Monza-Sassuolo è una sfida tra realtà ambiziose del Cato, ma che in questo momento sono un po' insuolzati. Sì, ma restiamo sui cori, quelli del Marco Bambino, Portieri in Fieri, quindi quando, la prima volta allo stadio Luigi Sada c'è stato, il Monza era già al Brianteo. Io ho già stato un po' insuolvo, perché Sada l'ha lasciato per il Tanto, quindi... Niente, quindi papà, papà Riccardo e nonno, come si chiamava nonno? Allora, il nonno da parte di mamma... No, 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 quello di papà. Chi era lo sportivo della famiglia? Cioè la religione del Monza l'ha avuta solo da Riccardo, occhio, o dal nonno? Eh sì, perché... No, no, i genitori, i genitori, le da una parte, le da un'altra, le mie genitori, le due non hanno mai avuto... Sì, ma oggi... Non hanno mai avuto una passione per lo sport. Oggi chi è più appassionato di Monza? Riccardo o Marco Este? Ma tutti e due, io ho avuto una grande attivazione alla grande fonte, ma la Monza era nei bassi fondi, il C1, C2, Seredi, e adesso tutti e due, ma anche prima... siete mai sì ma siete mai stati in curva a scatenarvi io faccio satica ma in realtà i cori mi onestamente mi piacciono non del monza ma di tutte le scuole ma con l'accredito no nel senso che voi siete grandi imprenditori della del video e quindi è diverso rispetto ai vani zagnoli punto it show a quindi anche poco fa c'è poco fa pochi mesi fa diciamo che in curva si è stato spesso in casa addirittura poche volte pochissime volte mentre trasferta un po di più però si sono tornati dopo il mondo era circa un anno fa era aprile in realtà marco a me piace l'atmosfera della curva ma preferisco infinitamente per questioni così culturali la curva ospite le curve ospiti ma soprattutto gli eventi al chiuso perché come ho raccontato tante volte marco mi segue ma non so seguirmi serve un'altra vita come dicevo anche oggi e mio il pubblico più emozionante vado fra poco a zalecchio di reno quello del perugia quando cantano un capi cantavano per de cecco un capitano tu sei il nostro capitana de cecco e poi con ruolo di tamburi emozionante come quando diceva da vecchio l'ex presidente federale che è scomparso diceva facciamo gli stadi no facciamo il lap dance vicino agli stati meraviglioso quando l'italia venne eliminata da conventura il giorno dopo partì la la querela insomma della signora molestata da data vecchio al grido di ti vedo bene si vede che sc tre puntini uno spettacolo ogni tanto la realtà va oltre la fantasia poi privatamente parlerò a marco este di una persona che mi sta aiutando che assolutamente determinante che a proposito di colore e costume va oltre quello che racconto intanto la realtà va veramente oltre detto questo caro marco este aspetto i tributi video ma dov'è in redazione adesso sì ecco domani domani spero che lei mi faccia un video reportage a meno dall'esterno del brianteo dall'esterno del bianteo il mio il mio incarico ufficiale e dovrebbe essere marco este a pagarmi perché marco este un ottimo professionista ma non ha quella fantasia quella verve che ha scritto gabrile maio a silvestro ramuno quindi domani gradirei un bel video reportage lo stadio brianteo il porto cioè non il portone insomma l'ingresso dove c'è la scritta l'arrivo del pullman del sassuolo l'arrivo del pullman del monza ammesso che arrivi anche quello del monza l'uscita dei ragazzi no è che ad esempio la reggiana in c1 in c i giocatori arrivavano nelle macchine con le macchine private si dice alla spicciolata e lì mi chiedeva la reggiana quella di mike piazza credo se ricordo bene mi chiedeva insomma di non molestare i giocatori cioè di non inquadrare non aveva tutti i torti a immagino beh insomma non è per il cuore intanto eh sì ho abbassato ma devo intervistare marco signorelli senta vede ma no adesso ruoto la rovescio l'inquadratura qui davanti c'è una ferrari o un ferrari davanti a vanni zagnoli punto ieri caro marco devo ancora proporlo ieri ho filmato alcuni chilometri di una automobile straordinaria che non ho capito cosa sia e c'era un collaudatore sopra l'ho filmato l'ho inquadrato due volte è così caro marco est allora di tutti i video racconti della settanta dei circa 70 mila video che ha realizzato in carriera vanni zagnoli punto it facciamo 60 mila via qual è quello che è rimasto nel cuore di di marco este parlo del collega del giornalista di professione o parlo come dire del riccardo este che non è marco guarda quello che per cui dopo sei stato premiato con quel riconoscimento o secondo me non è stato casuale anzi si hanno dato quello riconoscimento perché avevano visto no 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 marco il riconoscimento me l'hanno dato per due motivi primo erano pochi concorrenti due me l'hanno dato volentieri sicuramente ha pesato ha pesato no 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 altro che no no l'ho saputo me l'hanno detto me l'ha detto un informa cioè un informatore uno che era in giuria mi è stato detto hanno chiamato uno che litiga con tutti così è stato detto sì ma è stato molto molto bello poi mi piacciono i racconti che fai non è rigore tanto bene no ma intendevo marco solo questo quello di folklore cioè c'è una cosa folcloristica non so l'intervista alla trans una locale allora quelle che hai fatto c'è da dire una cosa che i tuoi video se tu non fossi quello che sei a volte parti in quinta sbrocchi e fai certo fai anche un buon lavoro che te l'ho detto più volte è certo anche il lavoro che è fatto relativo ai privi alla fine noi ci siamo un po' curiosi andiamo a vedere e sentire perché ci interessa perché magari in quel mondo lì non lo conosciamo oppure ci piacerebbe conoscere comunque un lavoro da giornalista poi lasciamo stare a volte i modi il modo appunto per cui ti poni e l'insistenza quale? quale che non ho capito dopo i privi? non ho capito a parte i privi? no ho detto i privi e poi anche la storia dei ragazzi quando ti hanno minacciato ah quelli davanti allo stadio quelli davanti al dadaumpa quel ragazzo adesso qua purtroppo prende male eccolo la il ferrari che allunga il rombo del ferrari beh ma sì ma il folklore c'è andare tra i tifosi no ad esempio quando sono andato c'era con tutti i ragazzi che ti avevano minacciato sì al dadaumpa a parma sì sì venivo venivo da milano non ero riuscito a fare sono arrivato tardi a un voli a milano e poi e poi eravamo d'accordo per la chiacchierata e poi mi hanno minacciato no volevano un passaggio no no volevo no chiudo a parte che sono arrivato ma chiudo perché non prende eccolo ma ormai sono a destinazione non capisco perché vicino allo stadio braia ma non sotto la tribuna non prendesse no la galleria quindi medaglia d'oro al premio ussi numero 2 in generale quale quale mettiamo il numero 3 quello dei privè non è male ma qua no ma non sono privè sono locali pescambisti che io racconto per strada no no ma non importa ah come genere ok poi al terzo posto cosa mettiamo sì ma quando li racconto no aspetti marco ma è la mia telefonata in cui richiedo informazioni con insistenza o è quando perché fossi andato proprio a milano ah quello ma è una roba brevissima quello dove chiedo vado in reception eccolo qua in divina classe ma vabbè ma lì ma lì non c'è nulla lì sono sceso mi sono affacciato un minuto c'è il pullman del parma laggiù attenzione c'è il pullman del parma e manovra attenzione andiamo contro il pullman del parma andiamo a schiantarci contro il pullman del parma attenzione attenzione ci sono i vigili urbani qui alla nostra però no no marco no no marco però io dai ti faccio l'ultima sì bravo era stata bella anche l'intervista che mi è piaciuta quando intervisti e lì stranamente hai l'intelligenza di ascoltare anche le risposte dei altri beh bravo perché di solito io parlo e non ascolto bravissimo bravissimo dica purtroppo ah sì che purtroppo è nell'arsenale perso beh avevi fatto una bella intervista a Giorgia Rossi mi ricordo in un ristorante sì sì a Reggio Emilia devo ringraziare che aveva subito cosa poi me l'ha fatta levare perché dice Vanni perché mi chiedi delle donnine no lui ha girato il mondo con la Roma no e ho chiesto quando andate all'est siccome è un mondo che conosco quando andate in giro per l'Europa fuori dai ristoranti dentro i ristoranti nessuno mai invita i giornalisti ai locali e localini lui dice se dico di no sembra che se dico di sì io ho detto se invitano non ho detto se ci sei stato niente da fare ehm sì Giorgia Rossi che purtroppo è nell'arsenale perso invece il flop qual è? il flop c'è quello che leva credibilità quello che non si fa per nessun motivo quello che è l'emblema il flop Dagnoli sei gruppa di un fortuna di persone le osses del sassuolo e quell'altro e quell'altro giornalista chi è quell'altro giornalista? Massimo era un esempio quanti continui a fare domande e cose per chiedere quando sono nati morti insisti troppo contro le persone io mi chiedo cioè io uso il video al posto dello scritto cioè al di là della conoscenza se io raccontassi come vorrei fare e forse abbiamo fatto o non ricordo ma se io raccontassi Riccardo Este gli devo c'è nella caccherata una delle prime cose è Riccardo Este 1965 vero? ehm nato a? a Milano quartiere Monza Monza bene Monza quartiere beh no sì ho capito Monza quartiere in centro va bene poi ehm fratelli sorelle vorrei i nomi l'età e le professioni sposato fidanzato separato da quando come si chiama lei nome mi basta il nome anni che lavoro faceva ecco tutto questo è ipoteticamente Marco va bene per un appoggio cartaceo cioè io la chiacchierata la faccio come facessi il Corriere della Sera il grande Aldo Cazzullo che accanto al personaggio o è Francesco ma per chiunque si fa una schedina quindi bella anche questa intervista a Lady Bonucci questa non me la ricordavo eh vabbè insomma ma lì giocavo un pizzichino in casa perché l'asso calciatori ho collaborato dalla porta principale per 8-9 anni no bello 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 le sfide Marco sono trasformati noi sì volevo di cose serie e poi ti lascio anche se queste lo vengono in parte sì cosa fai oggi? Modena e poi? volley la religione del volley time web vado a fare il vannizzagnoli.it show oggi davanti al Massimo Righi che mi ha riaccreditato urlerò il suo nome e dirò in piedi adesso devo pensarci bene soprattutto inquadrerò forse anche la moglie la Yvon Schlesinger canterò no no piano piano Marco ma Yvon Schlesinger è vice presidente di Lega Volley uno poi loro hanno come opinionista Leonildo Turini Leonildo Ildo Turini quindi e poi canterò andrò fra i cori fra i coristi di Perugia a tambureggiare anche io oggi farò prenderò la bacchetta del tamburo quindi farò Leon Poi farò Mascola ci ce l'abbiamo noi ho appena raccontati a Modena Perugia ha visto? non ha visto ha visto non ha ho visto qualcosina ho visto sì qualcosina farò 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 lo show davanti a Gino Sierci canterò Gino Sierci a lei a lei Gino Sierci a lei a lei Dico noi Dico sì beh per Marco ma lui è carino e l'ha detto stampa Simone Camardese anzi canterò dai Simone Camardese dai Simone Camardese perché voglio ottenere voglio ottenere Marco una nuova squalifica perché l'ho già riottenuta dal Parma Calcio insomma andando avanti così non sei lontano da squalifica a vita eh a vita eh eh vabbè senta cosa dai componiti ma non si può andare in giro nudi ma che vergogno no ma non sono nudo no 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 ho fatto la doccia in via Berneri dove aspetto gli est e soprattutto Angelita oggi è venuta Silvia Giglioli a fare le pulizie abbiamo raccontato le pulizie non tutto ma abbastanza e laggiù ho la doccia emozionale che funziona a un terzo e non ho neanche scaldato l'ambiente quindi era una doccia calda e poi mi sono asciugato cioè sono rimasto un po' con la macchina scoperta al sole volevo fare il viaggio di ritorno a casa l'ho riportata a casa lei è andata là a finire da sola ma mia moglie non ha mai freddo quindi mi ha fatto coprire la macchina qua al qua la temperatura percepita alle due era al sole era buona eh anche 15-17 gradi secondo me percepita percepita detto questo caro Marco Este purtroppo Gianluca Pasini è lui che ha inventato i video quindi Este News non ha bisogno del contributo di Vanni Zagnoli.it al volley però magari domani non si sa mai per il Corriere dello Sport per Pasquale Salvione bravo conosci tutti e tutti adesso però ti saluto bene martedì no lunedì sera che ora va in onda la trasmissione sul Monza da 20 alle 21 quindi una sera senza invito mi presenterò in via pelizza da volpedo da non confondere con costazza da volpedo per videare soprattutto per le traiettorie umane e professionali dei canta carta canta eccetera eccetera senta l'ultima curiosità qual è l'ultimo personaggio grande ex che avete ospitato in in studio in studio come si chiama il ragazzo speciale delle pagelle insomma l'uomo speciale Pederico quanti anni ha? Tanti o pochi? c'è 25? penso un 40 circa come vi siete conosciuti per curiosità? ma ci siamo conosciuti per via di amici in comune che poi ma c'è ancora quella rubrica? è un po' che non guardo c'è ancora perché una volta è stato influenzato una volta e da quanto va avanti? seconda stagione? è un secondo anno un'ordine di grandezza dell'audience Marco qual'è della trasmissione? ci sono dati? no purtroppo con i dati non ce ne sono perché la tv non ha l'interimento quindi questo purtroppo non gioca a nostro favore ma quale è la tv? est news no canale 79 dove andiamo in onda che è one tv certo quindi non so dirti esattamente però diciamo nel tempo sicuramente abbiamo creato un altro ma siete amici Marco rivali con Stefano Peduzzi? no cioè nel senso però c'è una rivalità teorica televisiva o no? esatto teoria dovrebbe esserci una rivalità teorica perché comunque affrontiamo tutti e due lo stesso argomento uno suona televisione e uno sull'altra però non esiste rivalità chi è che ha più audience? lui che c'è da di più? non ti so dire se ne ha di più o meno non credo senta ma il volto femminile chi è Marco? il volto femminile è Asia Asia Argento? no Asia Besana Asia Besana Besana figlia di no parente no di Giancarlo no va bene bene caro Marco Este siamo nel siamo pronti per migrare andiamo a farci compatire sotto sotto la tribuna stampa dello stadio Alberto Braia a cazza di rivalse per chi oggi si ha fatto non accreditare rifiutando di darci l'accredito quando la partita sta finendo e ha ottenuto il suo obiettivo dalla prossima ritorniamo continui a seguirmi Marco Este mi raccomando soprattutto nelle mie domande completamente slegate dall'attualità ad esempio a quante donne ha detto di no Marco Este sul lavoro? zero di sì di sì che può essere anche un'arma doppio taglio di sì zero una una ok poi a quanti uomini di no? sul lavoro zero 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 un abbraccio eh grazie buon lavoro a Vanni Zagnoli tutto it poi ci sentiamo per Salvione stai sereno spero per te Zagnoli che tu eh questa sera non mi raccontro a nuove squalifiche esatto denunce querelle esatto esatto ciao farò la diretta se ne voglia mi piazzo davanti siccome sono il bolognese vado davanti a chi da chi non mi va a entrare ai club per scambisti per fare il mio show se ho ancora voglia potrei farlo eh ma poi alla fine facciamo una domanda a te sì questi club di scambisti perché poi tu hai sempre domande gli hai fatto da dare risposta in questi club di scambisti tutti diverti o no? ma io non ho il physique du role cioè dicevo seriamente in una in una telefonata con con Riccardo e le persone si dividono Marco in due modi in due in due categorie gli uomini si dividono in due categorie e quindi quelli molto fisici molto ambiti spero sia il tris del Modena eh 3 3 in questo momento 47 Modena 3 armazzo 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 esatto quindi le persone Marco si dividono in due modi gli uomini molto fisici o molto esuberanti racconto giorno e notte l'ho raccontata decine di volte un uomo molto fisico di cui un agricoltore a Reggio Emilia mi ha chiesto di andare a bere con loro io avevo la maschera ho paura del covid e anche delle malattie venere me l'ha chiesto ho spiegato e poi me l'ha richiesto e mi fa oh se vieni a bere con noi ti fa un pompino bene e io e io Marco ho confermato infatti non volevo dirlo però purtroppo ed è diciamo uno dei rari momenti maleducati che ho ve l'ho voluto dire apposta benissimo allora questo signore che avevo già notato poi spiegherò come questo signore quindi va su viene seguito va su con la fidanzata la compagna quello che è va su trova un uomo è un uomo complice quindi egli fa una certa cosa lui ne fa un'altra bene e da spettacolo anche vocalmente dice urla non so cosa è successo ma qualcosa è successo poi finito questo a questa estasi mi nota lontano tre tre metri mi guarda e mi dice oh ma tu non dovevi sei non sei quello che gli uomini solo quelli invitati dalle coppie quindi io mi sono allontanato non ho fatto nulla né prima né dopo dicevo Marco ecco questa persona l'avevo già notato un'altra volta perché questa persona che è molto fisica è felice ricordo una persona che è caduta nel suo tranello quindi lui è felice di evidenziare alla fidanzata la differenza fra il super uomo che è lui e persone che sono al contrario come chi vi parla allora un giorno l'ho visto dire a un uomo oh ma sei venuto subito eh Spidi Gonzalez ecco è l'unico momento di cattivo gusto che io al quale ho assistito perché con tutta la simpatia con tutto quanto anche persone come posso dire non impulsive ma vere o che so ho scritto di Daniele Zanetti che è un tifoso da Virtus Bologna che deride molte persone ho scritto che è uno sborone io pensavo che significasse quello che non voglio dire no? quell'assonanza quel suono poi mi hanno detto che non è vero non lo so ho sbagliato io dico ma chiunque io penso che bisogna essere gretti per irridere una persona che hai invitato tu per ridicolizzarlo perché non tutti purtroppo abbiamo la fisicità dei pornatori uno ci sono persone normali e ci sono persone che si sentono a disagio in tanti contesti perché non sono sono il contrario di superuomini purtroppo l'Italia è questa non l'Italia il mondo è questo no no ma io Marco non vado per divertirmi dipendesse da me faccio una diretta coperta coperta intendo non il elenco raccontando quello che vedo le mie emozioni gli dicevo le persone si dividono gli uomini si dividono in due categorie quelli che fanno e quelli che guardano ricordo al bolero un uomo di 70 e passa anni su un divanetto fare l'onanismo come si dice per essere raffinati c'è anche qualche donna ricordo di aver parlato con una donna Ravenna una donna molto grassa che mi diceva la gente ci vede come matti il professore Amedeo Goria ha fatto una bella intervista al messaggero esce facilmente punto it non so se sul cartaceo dove ammette la frequentazione mi hanno detto che è andato al club Atlantis il mondo di Atlantis mi spaglio sempre quello di Jessica Rizzo che ho raccontato lì e poi al telefono la storia con Skype la storia di Jessica in realtà Marco io ne parlo tanto ma ci vado poco solo perché costa una marea di soldi siccome mi copro anche di ridicolo infatti cerco attori e attrici poi soprattutto Marco vorrei che lei venisse a Reggio Emilia insieme a me lei con la sua fidanzata mi basterebbe Angelita mamma Angelita vorrei che mi prestaste qualcuno per provare il laxery il laxery vuol dire andiamo a filmare le prove delle supercar tipo quella che avevo davanti prima andiamo a filmare le prove dei vestiti più belli del mondo sa che comunque Reggio Emilia trabocca di ricchezza l'Emilia Romagna no? Modena, Parma, Reggio Bologna solo che non trovo nessuno e mia moglie si vergogna ma ci dicevo una volta come una biscia del solo pensiero ecco no ecco se mi presto una donna Angelita sarebbe ma c'è Angelita lì oggi? no riposa? no ma 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 è presente in redazione o lavora in remoto? no è presente in presenza scusami quindi sempre a Volpedo a Volpedo si molto bene allora grazie per la pazienza un grande abbraccio è espulsione in vista eh grazie grazie per la no generalmente faccio molta attenzione ne farò dell'ulteriore siccome ho problemi ancora legati al diabete sicuramente alla prostata non c'è nulla di anzi siccome c'è l'arrivo allora io parto generalmente perché tutto ha un'aspirazione io parto vado lontano siccome racconto tanto parto tardi arrivo tardi poi c'è la ricerca del pareggio è tutto pieno la trattativa cercare l'accredito eccetera eccetera prima dell'ingresso servo bisogna che passi molto tempo allora come un italiano qualsiasi poi va bene comunque grazie perché l'ho appena l'ho appena no ma va bene adesso farò un'ulteriore attenzione la io resto di di un'opinione caro grazie intanto per la segnalazione che parliamo del nulla ok il mondo è pieno di persone che espletano un giornalista non lo può fare no io lo faccio evidentemente in maniera involontaria poi per carità spero che non non sia come l'altra volta che ma farò generalmente va bene dai grazie comunque grazie per la prontezza che qui che che ho qui che è Grazie a tutti. 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 No, ma non entro, non ho accreditato oggi. Ce l'avevo l'altra volta, ma non volevo solo salutarlo. Signore, con gli occhiali quello lì. Vado lì e torno indietro. Prego, 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 prego. di nuovo le forze di nuovo le forze di loro, ma non ho problemi. Grazie a tutti.